In un modo o nell'altro la conferenza stampa di Vrestalmenia ha generato un turbinio di elettricità e ora ci troviamo a navigare nell'oceano della fantasia, ubriachi come trichechi all'interno di una distilleria. E allora adesso per ognuno degli scenari di cui tutti stanno parlando vi dico quanto io sono in hype e poi voi nei commenti mi date le vostre percentuali da 0 a 100 per ogni caso preso un esame. Prima però ricordatevi di lasciare un like al video e di seguire il canale se già non lo state facendo. Partiamo con Roman Reigns contro Cody Rhodes che al momento è il main event pubblicizzato dello showcase degli immortali. La bloodline ovviamente potrebbe ancora rimischiare le carte. Hype all'80%. Cody grazie alla girandola di eventi di cui è stato protagonista ci arriva tifato come non mai. E poi c'è una storia da terminare, c'è un padre da rendere orgoglioso lassù nel regno dei cieli. Ma di più il termometro non sale, non ora almeno, visto che nelle orecchie permane il suo rinvio al sogno di una vita. Una volontà poi improvvisamente rinnegata. Ma se le cose non dovessero cambiare dobbiamo convenire che è un ottimo match di cartello dal quale tirare una riga e ripartire da 0 la notte dopo, indipendentemente dal risultato. Quindi attese comunque importanti con possibilità addirittura di crescita. Andiamo ora a Roman Reigns contro The Rock. Per me il main event migliore tra quelli possibili di questa edizione. Solo che se lo sono forse bruciato con delle scelte diciamo rivedibili. se lo dovessero in qualche modo fare lo stesso, magari costringendo Roman a lottare in ambedue le sere, io salterei dalla sedia. Ed è vero, il capo tribù e Rock ora sembrano in qualche modo uniti, affiancati, allineati sullo stesso fronte dagli insulti che secondo loro Cody ha rivolto alla dinastia Samoana. Ma l'obiettivo del campione del popolo resta comunque il seggio di capotavola e magari pure la cintura. E poi, oh dai, non c'è altro da aggiungere, è Rock contro Roman. Hype per il teorico, per ora solo fantasioso. Doppio match del capo tribù, 100%. Passiamo ad una sfida a tre, che in molti sul web stanno ventilando come soluzione migliore e pacificatrice. Tutti contenti? Eh? E alla fine, ecco qua, un'altra battaglia comunque inedita e di alto prestigio. Per me però questa scelta sarebbe la peggiore. Vi dico la verità, non mi gasa, non mi elettrizza. Oh, parere personale, eh? Quindi poi voi nei commenti potete andare anche in direzione contraria senza problemi. Qui si tratta di sensazioni. Il fatto è che nella mia visione ci sono due storie diverse che in parte si possono incastrare, ma che vorrei avessero ognuna il suo capitolo personale. Stando lontani poi dalle solite recriminazioni a match concluso del non mi hai sconfitto, non mi hai schienato, non ho perso. Una musica che abbiamo ascoltato con una cadenza troppo elevata. Quindi l'hype mio per la battaglia che potrebbe coinvolgere tutti e tre ad oggi, ad oggi perché poi ci sono le storie, le trame, i momenti microfonici che creano variazioni, ad oggi è zero. È proprio lo scenario che non vorrei che si verificasse. Ma c'è anche una variante, ovvero Cody contro Roman con The Rock arbitro speciale. Ecco questa paradossalmente avrebbe quasi più senso. Anzi, nel raccontarla, quindi immagino il mio lavoro da telecronista, eh beh ci sarebbero tantissimi appigli. Potrebbero venire fuori un sacco di tentacoli, eh? Pensate un po', potrebbe esserci il dubbio, sino alla fine, sulla fedeltà di The Rock alla Bloodline. È con noi oppure no? Il che lascerebbe pensare ad un possibile voltafaccia come accadde con Aaron Mike Tyson a WrestleMania 14, se non sbaglio, quando il pugile sembrava parteggiare per Shawn Michaels e la DX, salvo poi rivelarsi un fan di Stone Cold Steve Austin. E pensate anche a quanto si potrebbe scrivere nelle settimane prima per creare momenti di criticità, coinvolgendo pure solo Sicoa e Jimmy Uso in balia di due capitani che esigono il rispetto di ordini magari in conflitto tra di loro. Sarebbe un modo per coinvolgere anche le teoriche seconde linee. Quindi hype per questo scenario ad oggi, visto che valutiamo il momento, sempre 40%. Ma se si parte, secondo me potrebbe anche raddoppiare, potrebbe anche esplodere. Infine c'è quest'ultima opzione fantasiosa di Seth Rollins e Cody Rhodes contro Roman Reigns e The Rock, magari ad Elimination Chamber. Qui sono nella grafica di Vrestelmania, ma chiaramente non può essere il main event dello showcase degli immortali. Ecco, io su questo match a squadre ci metterei subito la firma. Soprattutto se fosse un modo addizionale di rilanciare il visionario. Magari facendogli schienare uno dei due rivali per iniziare ad evidenziare le crepe nella bloodline. O il discorso di prima, quello che ho accennato, di due prime donne, Roman e Rock, che si danno la mano ma non riescono a coesistere perché ognuno di loro pensa di avere il diritto di comandare. Però su questa sfida ci sono tante incognite. Innanzitutto non sappiamo se i Samoani andranno a Elimination Chamber in Australia e, peggio ancora, Seth Rollins è infortunato. Avrebbe senso rischiarlo a così poca distanza da Vrestelmania? Eh. Quindi qui a remare contro è la ragione. che dice alla rondine, ferma, resta nel nido. C'è una tempesta in arrivo. In condizioni normali, se tutto fosse in regola, se non ci fossero dighe o barriere, direi hype all'80%. Altrimenti zero, perché è meglio non fare fesserie. Certo, c'è anche l'idea di un match a quattro tra loro a Vrestelmania, ma ritengo che la puntata di SmackDown di questa notte, cronologia americana, l'abbia già praticamente cancellata. E questo è quanto. È incredibile, se ci pensate, come un evento tutto sommato semplice, con tutti i difetti che ho già sottolineato in altri video, abbia spalancato la frontiera dell'immaginazione in maniera così estesa, facendoci tornare a sognare. E a trattare il wrestling quasi come un gioco che è bello condividere con gli altri. E il come l'ho fatto io, e beh, ve l'ho detto. Adesso tocca a voi. Ho delineato cinque match concreti o di fantasia, con il mio hype. E adesso voglio sapere il vostro. Quindi iniziate lasciando un like al video. Ricordatevi di iniziare i vostri acquisti su Amazon partendo dalla mia vetrina. Trovate il link in descrizione. Se lo fate a voi non cambia nulla, è un click passivo, ma a me arriva una piccola percentuale in base ai vostri acquisti, che non va ad Amazon, sempre che iniziate da lì, mettete nel carrello e poi pagate. Ma ora basta divagare. È arrivato il momento nel quale, come al solito, con dita roventi, vi fate sentire nello spazio dei commenti.